Salve a tutti ragazzi e benvenuti a Shiba in questo nuovo video di Wolfenstein 2 del Neoclosus Andiamo pure avanti, finalmente non vedevo l'ora, riprendiamo la partita Ok, ci sarà da divertirsi, suppongo Vediamo un po' se riusciamo a uscire fuori da questa brutta situazione Vediamo un po' Medikit Ti è venuto per esaminare Ok, ve lo lascio guardare se siete interessati Io me lo leggerò con calma off camera Dove vado? Non lo so La mappa ce l'ho? Vediamo, non ce l'ho la mappa A meno che non sia un pulsante che mi sfugga Talenti, tutorial, non c'è niente Mamma mia, ma dove devo andare? Ci sono Come sa bella Non so dove devo andare Non vorrei andare in un posto sbagliato E' un posto un po' angusto Ti è venuto per esaminare Ok, noto, diario Leggerò anche questo off camera E questo mi sembra familiare Va bene, andiamo pure Non so perché mi aveva fatto andare qui Visto che qui non c'è niente Ho fatto un diario Ok Va bene Cerco sempre di controllare tutto Purtroppo Non posso degenerarmi più di tanto E' un po' un problema per il momento Speriamo fin bene Dove andare, dove non andare Non lo so Ok Oh Ma in testa ti ho sparato Non è che ho sparato quel bombolone io Eppure sembrava un'arma tanto potente Accidenti Ma veramente stai scherzando? Porca miseria Ma Ancora ti devo sparare per ucciderti Guarda lì Incredibile Accidenti Incredible Ancora Non è che siete infiniti Però intanto queste meccaniche non le supporto Esagerato Cosa ti avrò mai fatto? E Ho preso Granate F per lanciare una granata Va bene lo lancerò Io lo sapete Se mi avete seguito in passato Sapete che non sono un amante delle granate Però Va bene Le userò Se lo chiede il gioco Sto pensando Io voglio esplorare ragazzi Perché vedete cosa c'è C'è una cosa buona Poi cos'altro c'è? Ok Niente di che Va bene Vediamo un po' E niente di che Dove vuoi esattamente che io vada? Perché qua sono venuto C'è una porta Andiamo qua Però non mi fa No Questo è da dove Allora Può darsi che devo andare qua Mamma mia come sei lento Sei proprio lento 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 Vediamo un po' Purtroppo non avendo una mappa Non so dove andare Ok ragazzi Ho trovato Era qua Il punto Dovevo invertire il nastro In effetti L'aveva detto Ok Portiamo Ok Cinghia invertita Si sale Perfetto E adesso possiamo salire Mi dispiace ragazzi Non avevo capito Bene così Sì sì Sono d'accordo Lo pensavo anch'io Eh ma poi dai sai Ok Andiamo pure Era facile Ma purtroppo ragazzi Sono un po' Distratto Ultimamente Andiamo un po' Vai Attiva l'ascensore Ecco qua Ti vieni? Chi c'è? No 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 Aspetta 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 Rilasciati Wow Ciao Sei un po' cambiata Ania Rassicuro Ania Ti rassicuro William Ho pregato Perché ti risvegliassi Sono solo un peso Non dire sciocchezze Ok In piedi ora È un po' ingrassata Sette dice che avremo dei gemelli Ah fantastico Non ora Kinderlach Se sopravviverete Ci sarà tempo Per smutzerai Ora bisogna uscire Sul ponte Andiamo Sul ponte Aspetta William Wow Accidenti Spara 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 Così si fa Sorridi Accidenti Caroline Ma vai chi c'è Però La vecchietta non è male Oh cazzo Oh porca miseria No So Un bösio Junge Con una Waffe Loslassen Loslassen Sigrun Mamma mia Chi è questa budillona Ah Das weist du nicht Dida Abführen zum vorhör Ja muta Madre Oh shanta madonna Tu hasti vereinbarten leibesübungen nicht gemacht Und deine vie nicht eingehalten Vergib mi muta Ich hab gestione Ein kleines stucco kuchen Gekse Oh mamma mia Gettome cu Du bist eine Schande für deine Rasse Und für deine Familie Was werden die Leute sagen Wenn du in eine Klinik für Fettsüchtige kommst Eine Generalstochter Was für eine Schande Los Warte ihr halten Bist nicht mal eine Backpfeife wert Mama mia Er ist nach oben Da bin ich mir sicher Aller Marsch nach drinnen Ja muta Los vorhin Ich lock ihn raus Megafon Mi rivolgo Al terrorista e omicida William Joseph Blaskowicz Conosciuto anche come Terrorbilly Sono intenzionata A risparmiare le vite Dei tuoi compagni d'equipaggio Se ti arreddi Lascia la parte aperte Vieni qui da solo Eh Vieni qui da solo Pare che io sia stato chiamato Non andare William Ma hanno preso i nostri amici Hai trappolato il sottomarino Cosa possiamo fare? Hai ragione Devi trovare il modo di liberarlo Una volta che sarai là sopra Non posso perderti Sei debole William Non puoi combattere Troverò un modo Non è che vuoi investirci con la tua sedia a rotelle La miseria Non provare a toccare Non provare a toccare Il schnauze Ciò che resta di me Sono qui per voi Come va Caroline? Non so come abbia fatto Devo aver sbagliato qualcosa Ed è riuscito a trovarci Ho rovinato tutto Accidenti Mi fa fare niente Ti credi Un eroe William Joseph Blaskovic Tirate su lo storchio Ecco Invece lei non è Molto carina insomma Lasciamelo dire Non lo sei Sei solo il beniamino Della sporca feccia Dei passi fondi Degli schifosi scarti Della società Che marciscono nei ghetti O quando ti vedranno Cambieranno idea Ti trasmetterò in mondo visione Guardate Cazzo ridi E questo l'aspetto di un eroe Uno storpio Un relitto umano Che fiscia in un tubo Tutti vedranno Che sei un inutile Scherzo Della natura Lasciatelo Oh cazzo Oh cazzo Sicun Sei still Ich arbeite Ich dacht Du fattest Si freilassen Aber das Tue ich doch Die befreie Ihren Kopf Von ihren Schultern Aber du hast Du hast gesagt Du machst deine leibes Übung Und du verzichtest Auf den Zucker Und was haben meine Männer In deinem Zimmer gefunden Als sie's durchsucht haben Schokolade Kekse Limonade Bonbons Ganz abzusehen Von den kranken Sachen Die du in deinem Tagebuch Geschrieben hast Questa è fumata Los Non voglio ragazza Stai zu Ich kann nicht muter Mach schuern Nein Ich kann das nicht Mein Tagebuch Mit perversiun Und verräterischen Worten Vollschmieren Das kannst du Einige davon waren sogar auf Englisch Pagine Pagine Di schifezze Partorite Dalla tua mente Degenerata Dalla tua corpo Riempie di grasso Come quello di un trikego Non vedi Che posizione Mi hai messo E lei Degenerata Che mi obbliga Denunciarti Tu hattest kein recht Es zu lesen Posso par Qualquer Capo del Circolo Kreisau Il genio Criminale Non arrenderti Mai Glasko Non dar la vinta Da questa gente O forse no Porca puttana Vi ammazzo tutti Ma non ha mosso la bocca Cristo santo Vi ammazzo Oh cazzo Maledetta Maledetta Questa è fumata Questa è fumata Oh cazzo 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 Oddio Oh porca miseria Oddio le ha tirato un braccio Maledizione Indoscia indoscia Io l'ho indossata però Oh cavoli Wow Mamma mia Sono sconvolto ragazzi Non ho parole da dire Ah così a caso si è fermata Per non farti saltare le cervelle Parla lentamente Sono un po' disorientata Dalle nuova Posso aiutarti Posso fornirti informazioni Seguite militare Posso dirti come liberare il vostro sottomarino Ci sono un po' di salvataggio Sei molto utile Mi spiace per la vostra amica Zitta ragazzina Saltare mentre sei a mezz'aria Premi CTL a sinistra Ma quante cose devo fare? Mamma mia Devo fare tante cose Ok Scusate ma i pulsanti sono Diffici con la tastiera Pergus Non si può che provare rispetto Per uno che perde un braccio E va avanti come se niente fosse Eh eh Ciao Quindi adesso Wow 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 Però adesso posso mirare eh È una bella cosa questa Finalmente posso mirare Devo ancora capire come si attiva la mappa Devo guardarci Appena posso C'è nessuno vero? Ok E Come Come apro Ok Allora Mi avvicino Salto E poi premo Eh Oh ragazzi Non ci sto capendo una mazza Veramente Una mazza Allora Sono venuto da qua? Sì Sono venuto da qua Lui mi dice che devo andare là Però non mi dice come andare di qua Non mi dà da premere niente Forse qua Eh eh Però Dimmelo come fare Porca miseria Eh cavoli Allora Questo è una Cosa Qui non posso Aprire Qui Ok Finalmente Ho capito eh Si possono fare un sacco di cose Con un'ascia E un nazista Eh beh certo Si è visto prima Ok Oh Adesso finalmente è chiaro Ma cavolo Non si capiva Eh Scusate ragazzi Ma Accidenti Andiamo avanti Appena salva Eh ci salutiamo Perché se no viene troppo lungo il video Ed è un casino Ha salvato Bene ragazzi Dai ci Termiamo qua Eh Sono rivesto un po' sconvolto Sinceramente Della cutscene Mi ha un po' Mi dispiace Per caro Non ci ha seguito Per così tanto tempo Eh Vabbè Adesso vedremo cosa possiamo fare Fergus ha perso anche un braccio Non possiamo più dargli una mano Nel senso Va bene Ok ragazzi Io direi che per questo video è tutto Ci vediamo al prossimo video Con Wolfstein Zegno Colossus E vi do un saluto a Shiva Ciao ragazzi